Tutte le mod e le modpack che ho utilizzato nei video precedenti o che utilizzerò nei video futuri sono state inserite in un canale apposito nel server Discord che in questo momento credo che stiate guardando e in questo preciso istante mentre vi sto facendo scorrere e vedere tutte le mod ce ne sono ben 50. Ovviamente ogni giorno ne aggiungerò 2 o 3 fino ad arrivare a 100, per ora questo è l'obiettivo ma fidatevi aumenterà come numero. Ma ovviamente la cosa che vi interessa è come posso ottenere tutte queste mod e anche modpack molto carini in caso vi avrò messo anche qualche immagine e qualche clip a schermo. Muy Facilo, uno spagnolo inventato da me, iscrivetevi per lo spagnolo inventato. Dovrete ovviamente essere entrati nel server Discord, il link è in descrizione, iscrivetevi al canale così per il meme e soprattutto ci sono due modi per ottenerle. Il primo modo, che è quello facile e veloce, è essere sub su Twitch, vi ricordo che col Prime è assolutamente gratis così una volta sub vi verrà dato il ruolo, entrate su Discord e vi beccate tante di quelle mod da tipo dire ti prego basta ne ho 7 da giocarci al giorno e quindi sarà molto figa come cosa. Secondo modo, un po' più lentino, ci metterete un po' ma comunque ne conviene e ne vale la pena sempre nel server Discord basta arrivare rankando, ovvero scrivendo, parlando, socializzando, quindi è una cosa facilissima quando volete, basterà appunto arrivare al livello 20, non è troppo tanto, anche se non esiste troppo tanto ma ci siamo capiti e non è neanche un livello bassissimo, è un giusto livello, un intermezzo. Perciò, quindi, o fate la sub su Twitch e ci mettete pochissimo e diciamo che io ci ho speso tanto con queste mod perciò diciamo che questa cosa della sub è comunque ripagata e onesta come cosa, dato che per voi è totalmente gratis oppure rankando a livello 20. Poi se volete entrare su Discord e rankate fino a livello 20 ma non volete le mod va bene lo stesso. Quindi, ricapitolando, una cifra di mod, molte le vedrete nei giorni futuri quindi iscrivetevi per le mod in futuro. Sub su Twitch, livello 20, link di Discord in descrizione non lo so, ho finito le dita, ahi mi sono fatto pure male. Vi ringrazio per la visione di questo brevissimo incredibile video che non doveva uscire oggi, bensì doveva uscire una modpack spoiler non mi ricordo quale, fatemi vedere quale doveva uscire. Ah già, quella che se smetti di minare esplodi va bene, vi lascerò il video molto probabilmente domani. Vi ringrazio nuovamente, vi ricordo di iscrivervi e ci becchiamo domani con la mod delle esplosioni per un nuovo video. Ciao! Ciao!